Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale, grazie per la visione di questo video, sono Bennet e questa è la prima di due parti in cui vi faccio un veloce riassunto delle due parti di The Last of Us è importante farlo perché serve a spiegarvi perché io sto con Abby e perché sono convinto che quelli che sembrano i cattivi di questa storia in realtà non lo siano sarò molto sintetico, non scenderò nel dettaglio, quindi non rompete il c***o tra i commenti se mancano parti se mancano è perché non le reputate fondamentali per fare capire la storia partiamo subito col video e con il riassunto di The Last of Us Joel rientra a casa, la figlia gli fa un regalo, scoppia la pandemia e gli infetti cominciano a invadere le strade Joel e sua figlia scappano con lo zio Tommy, hanno un incidente durante il tragitto ma sopravvivono e continuano a fuggire a piedi per le strade invase dagli infetti per una serie di circostanze Joel si ritrova davanti a un militare che lo blocca punta l'arma contro lui e la figlia e spara Tommy, che probabilmente era andato a pisciare dietro un cespuglio, uccide il militare ma ormai è troppo tardi la figlia di Joel è morta la storia prosegue con un salto di vent'anni in avanti dove troviamo Joel più vecchio e incazzato ma anche con tantissima esperienza sia nel sopravvivere che nel trattare con gli altri sopravvissuti ma soprattutto lo ritroviamo in una situazione che non fa di lui propriamente un santo infatti Joel è un contrabbandiere insieme a una donna che si chiama Tess ecco qui viene già fuori la differenza tra uno che lo gioca e un osservatore esterno gente, Joel è un criminale e un assassino ma non andiamoci troppo pesante già da adesso e proseguiamo un accordo che avevano con un altro gruppo va a puttana e i due si ritrovano a far fuori un uomo a sangue freddo con un taglio cinematografico degno delle migliori scene di Tarantino l'omicidio avviene perché il carico di armi che dovevano consegnare al gruppo delle luci viene perso in ogni caso Joel più avanti incontra comunque il capo delle luci, Marlene una ragazza che se ne fotte del carico perso ma in cambio chiede a Joel di scortare una ragazzina, Ellie dopo un bel viaggio lungo e complicato ed essere quasi giunti a destinazione Tess viene morsa e inizia a mostrare i sintomi dell'infezione anche Ellie è stata morsa ma è così che si scopre essere immune ed è quindi importante che venga consegnata poiché grazie a lei sarà possibile creare una cura Joel decide inizialmente di lasciare Ellie a suo fratello, ex membro delle luci ma questa non ne vuole sapere e rompe talmente i coglinoi che Joel si fa prestare una macchina da un tizio losco per attraversare tutto il paese e consegnare questa piccola frantuma a Zebedei svariati chilometri più in là però cadono vittima di un'imboscata alla quale ovviamente riescono a sopravvivere e fanno la conoscenza di altri due personaggi che però dureranno poco pochissimo e non finisce neppure bene per i due il ragazzino infatti è stato morso, attacca Ellie ma suo padre gli spara e subito dopo si suicida qualche stagione più tardi Joel decide definitivamente di abbandonare Ellie a suo fratello ma stavolta questa da brava sbuccia a testicoli qual è? scappa. La ritrovano svariate foreste più in là, offesa, scocciata tuttavia è decisa finalmente ad affrontare questo viaggio e se l'avesse deciso prima molte persone sarebbero ancora vive Tommy, che inizia a non sopportare più nemmeno suo fratello Joel indica loro un'altra base delle luci da raggiungere eeeeeee niente! Vuota anche questa! ma siccome Joel comincia a essere affetto dalla sfiga che porta a Ellie in una fase d'azione cade dal primo piano e si ficca un paletto di ferro in un fianco e purtroppo per lui non muore essendo nel bel mezzo dell'apocalisse non esistono più medici e medicinali quindi Joel deve contare sulla sua capacità di recupero e sull'aiuto di Ellie ok sono morto durante una battuta di caccia Ellie si imbatte in due personaggi che tutto sono tranne che amichevoli infatti mangiano altri sopravvissuti dai quali fra l'altro viene anche rapita ma si rivela una scelta sbagliata per i due visto che Ellie ormai è un'assassina perfetta e usa la stessa mannaia che stavano usando per tranciare gli arti di un cadavere per affettargli la testa arriva l'estate, Joel si è totalmente ripreso e quindi riprendono anche il loro viaggio che però termina bruscamente con una calciolata in faccia a Joel mentre cerca di salvare Ellie che stava per affogare da parte dei soldati delle luci che così li catturano ritrovano Marlene la quale dice tranquillamente a Joel che Ellie sta per subire l'operazione per estrarre la cura dal suo corpo processo che la ucciderà a questo punto Joel decide di fare quello che gli riesce meglio uccidere tutti e fanculo la salvezza dell'umanità meglio salvare una squarta scrotico le unghie Ellie che tuttavia è ancora una ragazzina si chiede adesso cosa succederà all'intero genere umano visto che lei era l'unica che poteva salvarlo dall'estinzione ma Joel inventa una supercazzola per farle credere che c'è un altro modo e il gioco finisce così la saga poteva anche concludersi in questo modo ma Naughty Dog voleva altri soldi e quindi hanno fatto The Last of Us Part 2 del quale trovate il riassunto nella seconda parte nella scheda che è affacciata proprio in questo momento insieme al perché io sto con Abby ora se volete guardare la seconda parte cliccate sulla fottuta scheda altrimenti c'è il link in descrizione e soprattutto non spaccate i coglioni con la storia del sei ma tu non l'hai giocato qui vi ho raccontato una cazzo di storia non mi serve un joypad in mano per seguire una storia e smettetela di fare gli elitari di sto cazzo solo perché l'avete giocato e magari molti di voi che l'hanno giocato non ci hanno neppure capito un cazzo ora per chi non ha capito il senso di questo video fottetevi già da adesso e attenetevi al contenuto del fottuto video se proprio dovete commentare altrimenti tacete il video continua con la seconda parte grazie per la visione grazie per la visione